presentiamo quindi alessandro a balsamo presentiamo alessandro a balsamo insegnante di salsa cubana rueda salsa hip hop afro rumba reggaeton e adesso ci farà anche un cha 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 interpretazione musicale quindi uno dei vari corsi che farà sui esibizioni quindi adesso vedremo la parte di interpretazione poi lo facciamo riposare facciamo anche gli altri tipi di baglia alternandoli con gli altri ragazzi quindi presentiamo alessandro a balsamo interpretazione mi chula oi mi chula come me vuole mi corazón sin ti se viene oi mi chula come me vuole mi corazón sin ti se viene oi mi chula come mi chula come me vuole mi che mi chula come me vuole ma ma e e e il pitticlino è più precioso come me vuole un corso semplice come me vuole come me vuole un corso semplice lo che la vita regala con passione la morte non lo regita con dolor mi amor debiera un anillo però tu dà la tua loda consiglio come desigas te chiedo un fortissimo applauso Alessandra Balsamo, un granissimo ragazzo che ha fatto quanti anni hai Ale? 24 ha già girato il mondo ha già girato almeno 14 congressi invitato ai migliori congressi